Buonasera a tutti, intanto voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla live questa sera, siamo qui nel post partita per me, nel senso post live, grazie, è stato un piacere, un onore come sempre, è stato bello gli amici che hanno partecipato, Emanuele, Daniele, Marco, la prossima volta ci sarà anche Joe sicuramente, la prossima volta ci sarà anche Giovanni Bruno, insomma saranno degli altri appuntamenti tra qualche settimana, adesso c'è un po' di vacanza. Grazie a tutti voi che avete partecipato in chat al dibattito e siete stati molto molto bravi e molto gentili e molto cordiali e pertinenti, perché come diceva Toto questa domanda non è pertinente, questa è una domanda impertinente. Bene, veniamo velocemente per parlare, volevo parlare velocemente della partita perché abbiamo fatto la cronaca, abbiamo fatto i commenti ma così volevo scambiare due chiacchiere visto che non ho ancora voglia di andare a dormire, scambiare due chiacchiere con voi sulla Dea. Devo dire che non ho avuto modo naturalmente di guardare la partita come faccio di solito con l'attenzione dovuta per i dettagli, posso raccontarla un po' grossolanamente, perlomeno l'impressione che ho avuto è stata quella di un'Atalanta molto viva, molto in partita per un'ora circa e poi dopo calata fisicamente. Calata fisicamente e di conseguenza è più facile distrarsi e di conseguenza è anche più facile perdere le misure nelle distanze tra i difensori, tra le parti. Per quanto l'Atalanta in realtà abbia difeso sempre abbastanza bene di squadra facendosi schiacciare un po' troppo nella ripresa da un Paris Saint Germain che nel primo tempo francamente veramente non aveva nessuna idea di come andare ad attaccare l'Atalanta. Ha vissuto semplicemente sulle giocate di Neymar e di lì non si è spostato. Poi dopo nella ripresa è entrato Mbappé il quale ci avevano detto che fosse praticamente su una gamba sola, invece di gambe ne aveva due e neanche fatte valere. L'Atalanta è andata un po' in confusione con un Caldara ancora tremendamente insicuro e con un reparto offensivo che a parte Zapata che ha fatto il suo prendendosi tanti falli, portando sulla squadra e tenendo molti palloni. Per il resto devo dire che l'Atalanta nel secondo tempo ha avuto veramente una produzione offensiva scarsa facendosi appunto schiacciare troppo. Una partita che sembrava indirizzata comodamente almeno fino all'ottantesimo, perché è vero che il Paris Saint Germain aveva avuto qualche occasione con Mbappé, con Neymar, insomma sono giocatori fantastici, quindi sappiamo che possono inventare da un momento all'altro. Però non aveva creato veri e propri pericoli e non aveva dato mai l'impressione di poter andare a fare gol, questa era la verità. E Ale invece poi ne ha trovati due, su due letture un po' complicate della difesa dell'Atalanta, però è anche vero che bisogna farvi conto sul fatto che l'Atalanta ha dei bravissimi giocatori inseriti in quel sistema, il Paris Saint Germain ha dei grandi campioni inseriti in nessun sistema, ma che da soli hanno ribaltato la partita. Io continuo a credere che il Paris Saint Germain non possa vincere questa Champions, perché come trova un avversario dai valori simili, ma più organizzato, può andare in sofferenza. Adesso vedremo se sarà l'Atletico Madrid, probabile, oppure l'Ipsia. In ogni caso per l'Atalanta resta un grande viaggio, è un viaggio che si è concluso in un modo amaro, perché chiaramente perdere 3-0 un conto, vincere 1-0 fino al novantesimo e poi vedersi ribaltare in due minuti praticamente un accesso alle semifinali che se ne aveva già scritto, fa male, fa male. Però evidentemente l'Adea paga una stagione a miglia all'ora, una stagione dove ha corso tanto e dove tanto si è fatta valere da un punto di vista fisico e tanto si è fatta valere da un punto di vista dell'organizzazione che comunque si è vista anche questa sera. Evidentemente a questi livelli poi i valori tecnici, oltre che di organizzazione di squadra, pesano e quindi il Paris Saint-Germain ha potuto ribaltare la partita attraverso le giocate dei suoi campioni. Una gara, ripeto, che poteva avere un finale diverso, se non ci fossero state quelle due sbavature che hanno consentito al Paris Saint-Germain di vincere, credo, se posso dire, in maniera immeritata, nel senso che la partita era stata una partita molto equilibrata per almeno 70-80 minuti e questo è merito dell'Atalanta, perché insomma andare in una gara secca, giocarsi un quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain delle tante star, che poi in realtà non è che siano tantissime, insomma qualcuna ce n'è, è un grande merito da parte della squadra di Gasperini. Peccato, finita così, probabilmente l'Atalanta è arrivata fin dove poteva arrivare, con un po' più di fortuna, un po' più di attenzione, sarebbe stata semifinale, comunque vabbè, credo che possano essere soddisfatti comunque, ripeto, resta l'amarezza per aver perso in questo modo. Vedremo poi che cosa accadrà adesso nelle prossime partite, io ho votato Bayern Monaco come squadra vincitrice della prossima Champions League, staremo a vedere. Intanto rinnovo i miei ringraziamenti a voi per aver partecipato alla diretta questa sera, alla trasmissione, alla chat, con i vostri messaggi e tutto quanto, quindi grazie ancora e noi ci sentiamo come sempre domani. Buonanotte.